attenti bravi oh che bella cremonese in questo avvio però come vi piace è bellissima no incredibile è una bella palla quella lì poteva essere una palla magica un bello reti però fallo l'ho tirato una scappa bravissima cremonese l'ho rinviato guarda che buona figa rosso bastardissimi che sguardo cattivo che rabbioso che roba mamma mia